Cari amici, io credo molto, ma molto profondamente nella lealtà. Io, per quanto mi riguarda, sono sempre estremamente leale, chiaro, nei confronti di tutte le persone. Siano amici, siano conoscenti, non ho mai retropensieri, vado sempre diritto al punto, dico quello che penso e non prendo mai nessuno dietro le spalle, suddolamente, come invece fanno tanti in Italia. Questo è uno sport sempre più diffuso in Italia. Cari amici, ma l'Italia sta diventando un paese invivibile? Cari amici, ma l'Italia sta diventando un paese invivibile? Cari amici, ma l'Italia sta diventando un paese invivibile? Grazie. Grazie.